Si è conclusa nello scorso weekend la prima edizione di Asso DJ Show, il contest per DJ promosso dall'omonima associazione con la media partnership di Bitonto TV. Dopo aver superato lo scoglio delle semifinali, i cinque finalisti si sono sfidati sabato in villa comunale. Alla fine è stato Andrea Padula a spuntarla. Per lui una console e il supporto dell'associazione, attiva da anni nella tutela dei giovani disc jockey. Durante la serata si sono esibiti gli Agreement e Mark Storm, producer dodicenne considerato tra i nuovi talenti del genere, che ha diviso la console con gli altri grandi ospiti Mirko Alimenti e Frankie Polaris. È un'esperienza magnifica, veramente. Io spero che l'anno prossimo si rinnovi. Penso sicuramente perché dovrò rimettere in gioco la mia coppa. Un'emozione indescrivibile, anche perché questo riconferma che la mia strada, la strada che sto intraprendendo e quindi la mia passione è quella giusta. Sto seguendo la strada giusta, quindi per me sono tante congratulazioni. Io a parte al lavoro da DJ, sto intraprendendo e anche diciamo il lavoro da produttore, quindi probabilmente in futuro penso che rilascerò qualche EP o qualche release su qualche etichetta importante. Io me lo auguro. Sto lavorando per questo. La necessità di tutti quanti i DJ è quella di decidere un giorno di diventare grandi. Grandi come DJ, come categoria, diciamo come artista. Credo che sia fondamentale questo concetto perché da oggi le cose dovrebbero cambiare. Io ho già provato a farle cambiare in parte. Facendo riconoscere l'attività del DJ come artista, interprete e esecutore, fino ad oggi non è stato fatto. Dobbiamo fare in modo che il DJ si assuma la decisione di affrontare quello che è la realtà di oggi e cioè quella di fare musica perché si coinvolgono naturalmente tanta gente che magari sembra lontana da noi. Questo è quello che ci si è messo in testa qui a Bari, quello di dare una continuità al corso con questa iniziativa che è un'iniziativa di carattere ludico, se vogliamo, ma che nel tempo deve diventare un momento importante per crescere ancora più come categoria e come artisti veri e propri.